Salgono i casi di contagio da Covid-19 in Italia. Nel bollettino di ieri quasi 24.000 casi e 500 morti. Arrivate oggi oltre 1,3 milioni di dosi di AstraZeneca. Dopo i nuovi aggiornamenti, l'Istituto Superiore della Sanità porterà al possibile cambio di colori di alcune regioni. Lombardia forse zona rossa anche dopo Pasqua. Campania verso la zona arancione da martedì. La Sicilia rischia la zona rossa dopo il caos contagi. RT nazionale scende allo 0,98. Da domani, per il weekend di Pasqua, 3, 4 e 5 aprile, tutta Italia in zona rossa. Speranza su riaperture. Non c'è una data, ma sono ottimista. Nelle ultime ore, record di vaccinazioni anti-Covid in Italia. 282.000 in un giorno, ma le regioni lanciano l'allarme per le dosi che scarsiggiano. Anche se in Campania domani saranno consegnate altre 34.500 dosi di vaccino moderna, destinate in gran parte ai medici di base della Campania, per fare le somministrazioni ai propri pazienti in studio o a casa per chi non può camminare. In questo modo sarà ampliato il bacino dei medici di famiglia che stanno vaccinando i propri pazienti. Complessivamente, in Campania sono stati vaccinati con la prima dose quasi 610.000 cittadini. Di questi, 250.000 hanno ricevuto la seconda dose. Arrivano per la prima volta anche i dati delle vaccinazioni a Torre del Greco, eseguite alla Santissima Trinità. Si contano 2.104 dosi ai cittadini d'età superiore agli 80 anni, 52 per quelli d'età compresi tra i 70 e i 79, 1.394 dosi al personale docente e non docente, 102 ai soggetti fragili, 61 dosi alle forze dell'ordine, 5 dosi ai caregiver e 4 dosi ai disabili. Numeri che nei prossimi giorni potranno salire.